Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ark Subwaygo Evolved Come potete notare off camera ho costruito appunto una prima base giusto per cominciare Come avevo anticipato nello scorso video Ho messo dentro solo un mortaio, il campfire e un paio di ceste In questo episodio, come avevo detto, andremo sicuramente a tamare qualche dinosauro qui nei paraggi L'unico problema è che il calicotterio dello scorso episodio che mi avete chiesto di tamare È leggermente morto, perché tipo di cui sono passati due T-Rex, un bellissimo velociraptor Che mi ha mangiato 5 volte di fila, mi voglio tanto bene quei velociraptor Non so che fine abbia fatto, penso che sia ancora vivo eh Probabilmente me lo trovo qui nei paraggi in questo episodio o magari anche nei prossimi I due T-Rex invece penso siano morti perché tipo si sono trovati contro l'orda delle tartarughe marine Ma vabbè, comunque qui non c'è niente interessante da tamare senza quel calicotterio Qui c'è una fiumia, ma praticamente non mi interessa Quindi quando si farà giorno vediamo di andare verso di là E speriamo che ci sia qualche dinosauro bello da tamare Il pterodattilo sarebbe l'ideale, solo che al momento non possiamo fare la sella Quindi non ne vedo l'utilità Lì c'è un altro Dilophosaurus, quello dovrebbe essere un Diplodocus Se lo taglio, quello che fa da autobus Quindi non dovrebbe essere problematico Qui è pieno di fiumi, ma va... nooo c'è il velociraptor No, 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 spero che non mi abbia visto Perché se mi abbia visto sono fottuto Fu così che la fiumia si allontanò e incontrò il suo destino alquanto crudele Già, c'è un Dilophosaurus e anche un velociraptor Quindi non è il caso di inseguirlo Anche di là c'è un velociraptor Quindi, beh, devo solo decidere da quale voglio essere ammazzato fra trocci sofferenze La zona di là non mi ispira troppo Quindi direi che possiamo andare ad affrontare questo velociraptor Se non mi dà fastidio tanto meglio Ma nel caso mi vede e sono morto Qui c'è un altro Dilophosaurus che... Beh, oddio, quasi quasi No, scherzavo che c'è il velociraptor già là Già lì pronto a rompere i coglioni Speriamo solo che non mi veda Non attacca il Diplodocus Interessante Direi che possiamo uccidere questo... No, anzi, sapete che vi dico Tamiamo questo Dilophosaurus Così abbiamo un più o meno valido aleato Almeno mi aiuterà a tenere occupato il velociraptor Un po' Ok Livello 3 femmina Vabbè, tamiamola Vediamo un po' di carne Dovrebbe essere a posto Speriamo che si addomestichi subito Perché sennò qui si è omessi veramente male Il velociraptor è lì E sta venendo di qua No, velociraptor No Tu non mi hai visto Ah no, è l'oviraptor Va a creare Il velociraptor di là Tra l'altro Con sto aggiornamento dell'illuminazione Non si vede assolutamente niente Il sole è ceccante Madonna Vabbè La domesticamento sta andando abbastanza veloce Il velociraptor lì che si avvicina No, no, no Non va bene Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Lasciami in pace No, che sta venendo qui No, che sta venendo qui Non rompere i coglioni No Di là c'è la fiumia Mangia la fiumia No, non se ne vuole proprio andare Ancora qui Io voglio vedere come valla domesticamente del mio dilafosauro Ti dispiace Ah, ok L'ho domesticato Non spreco neanche tempo a dare il nome Perché tanto so che morirà fra torcissime sofferenze fra un istante Quindi Allora Tu, cara mia Quanta vita hai? Hai abbastanza vita Quindi Comportamento Attacca il tuo obiettivo Bene Carissima Sei pronta ad affrontare il tuo destino? Perché il destino chiama Infatti chiama Uccidilo Aiuto Porca miseria No 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 Fa malerrimo Fa malerrimo Fa malerrimo Fa malerrimo Fa malerrimo Fa malissimamente male No No E infatti sono morto Speriamo che il mio dilafosauro ce la faccia ad ucciderlo Non penso proprio Ma Mai dire mai E rinasciamo qui nei paraggi E speriamo che Il dilafosauro sia ancora vivo E che quel veloci actor Si è morto Malissimo Perché Decisamente ha rotto le scatole Cos'è quello laggiù? Non lo voglio sapere Dove siamo spawnati? Immagino Che devo andare di là Penso Non mi ricordo dove sia la base Penso di qua Dove sono spawnato? Non si vede niente È troppa luce E non mi dà nemmeno la posizione sulla mappa Se devo decisamente attivare Se devo attivare la posizione sulla mappa E anche le altre cose Cos'è quello? Da quando è che la fiumina fa tutto sto rumore? Ah ok Ecco dove erano finti tutti gli altri Calicuterium Che avevo visto nello scorso episodio Sono tutti da queste parti So che il loro timing è passivo E tipo il loro cibo preferito è la birra Non ha molto senso come cosa Però Contenti i creatori di Ark Va tutto bene Ma scimmia Non ci credo No vabbè Doviamo assolutamente tamare questo coso C'è niente da dire Questo assolutamente Ok Eccoci qui Direi che il nodilofosauro è decisamente molto morto Cosa sta attaccando? Oh Sta attaccando Cosa? No ma state scherzando Cos'è quello? Cosa sei te? Arrivò io alla mia carne Figlio di puttana Torna qua Che diavolo era? Che è successo? No che i cionpi iniziano a rompere i coglioni No Lì il veloce raptor sta affrontando il tartarugone Aiutiamo il tartarugone Sbaglio sempre il tasto Allora Sti cionpi del cazzo Speriamo che non rompano i coglioni E vai tartarugone Mamma mia Mamma mia Grandissima tartaruga Vai così Livello 3 solo Wow Ho ucciso il veloce raptor Che livello era? Livello 22? Vuol dire che l'abbiamo danneggiato così tanto? Wow Va bene Direi che me ne approfitto Prendo la carne Un po' la metto a cuocere E il resto la usiamo Per andare a tamare Qualche dinosauro Quindi paraggi Penso di aver recuperato Tutte le bacche Sì infatti Direi che possiamo andare a tamare Con la scimmietta Vediamo di mettere a cuocere un po' di carne Perché è una persona Come al solito E come sempre Deve morire di fame E di sete Intanto Ricarichiamo un attimo La boraccia Così O bere E la carne Si cuoce Nel frattempo Che tamo La scimmietta Speriamo di non incontrare più Il rompiscatole di prima Che non ho fatto nemmeno il tempo A leggere il nome Quindi non so nemmeno cosa fosse So solo che mi ha rubato Tipo tutta la carne Che avevo nel inventario Ma Vabbè Me ne farò una ragione Comunque Senza veloci raptor Nei paraggi La zona È decisamente Molto più sicura Tu sei un fiomio È vero Tu sei un fiomio Un misopiteco O un masopiteco O come diavolo si chiama Dovrebbe essere qui Nei paraggi Tu cosa vuoi Non mi vuoi male Ehm Direi che la scimmia Non ha gradito Cristoforo Colombo È scappato di nuovo Non ci credo Dai Se l'ha preso con me A posto Direi che possiamo Anche tamarci Lo studio Dilofosauro Visto che effettivamente Un alleato Mi farebbe comodo Torna qua adesso Tu bastardo Cosa scappare Torna qua Ok Andato Te Vuoi mangiare? No Non vuole mangiare Invece Te Immagino che il cibo Faccia comodo Che livello sei? Livello dieci Bene 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 Abbiamo un dilofosauro Livello dieci Quello cos'è? Un altro dilofosauro? Ci facciamo l'esercito Di dilofosauri Dai su A posto Tamiamo anche quest'altro dilofosauro Voglio un esercito Così almeno se mi capita un altro Velociraptor Sono più o meno difeso Manco questo cavolo Te Non mi mordi Anzi ti addormenti Livello trentatere Tristo Dai Dai No Che mira di merda Ah vabbè L'ho stordito L'ho stordito Ok Non male Non male Tu amico mio Quanta carne vuoi? Beh immagino che un altro Pezzo ti basti E ne apporto Un po' al tuo amico Che è anche il livello più alto di te Cosa sta succedendo su Ark? Cos'è? Una tempesta? Mai visto questo clima su Ark? Comunque La scimmietta è tornata sulla terraferma A te ti chiamo Pino L'altro lo chiamerò Gino Giustamente Quindi te sarai Pino Sei maschio? Sì Te Sei un altro maschio? Sì Perfetto Te Amico Pino Mi dì Hai finto tutta la carne Madonna che ingordo A te basta la carne Non penso proprio Allora Con chi se non sbaglio Dovrebbe seguirmi Giusto? Sì Con U Dovrebbe restarsene fermo Te Ti stai domesticando Con tutta la lentezza di sto mondo Ma mi serve carne Fatto sta mi serve carne Quindi Amico Amico mio Te Vieni qui Attacchi Il mio Obiettivo Penso che abbia già finto la carne Infatti Il do Un paio di narcoberry Così lo teniamo Stordito Che un po' Si sta svegliando Mi tocca dargli Un narcotico Vabbè Non volevo usarlo Per un dilofosauro Ma a quanto pare Mi tocca Te A sto giro Mi segui? Bene Uccidimi sto dodo Mi dispiace amico dodo Ti voglio bene Ma All'altro Dilofosauro Serve carne Quindi Te sei Una vittima Casuale Anche il mio personaggio Sta morendo di fame Quindi Vediamo di farlo mangiare Un pochettino E Andato Il dodo Bene Tecnicamente Lui ha raccolto Tutta la carne Viva le moto Che passano E sta anche mangiando No La carne la devi condividere Perché Altro Tuo amico Ancora lì A dormire E devo assolutamente Tamarlo Visto come il bello 33 E come potenza di attacco Non penso sia malaccio Mmm Sto cielo così Non l'ho mai visto Prima volta che vedo Questo cielo su art Cosa? La barra del timing è scesa? Stai scherzando? Può scendere La barra del timing? Oddio Questo non lo sapevo Ed è un bel problema Tra l'altro Facciamo un tentativo Scimita Vuoi mangiare per favore? Sì L'ho dato da mangiare Viva Ok Intanto che Scimita mangia Direi che Si tocca trovare Un'altra vittima E sti ciompi Fanno il caso mio Ce n'è solo uno Che è tristezza Ti dispiace? Fai te il lavoro sporco? Grazie Ti voglio bene Però evita di attaccare me Possibilmente che non è il caso Grazie Pino Molto gentile La carne non è per te Dopo ti darò il premio Ma non adesso Vediamo se La barra del domesticamento va Non va Ma speriamo che vada adesso Ok Con tutta la lentezza Del mu- No Perciò Si è domesticato subito A posto Gino Benvenuto in famiglia Allora Anche te Adesso Ti setto in Attacca il tuo obiettivo Anche te Mi segui Chiaramente Mi stai seguendo Sì È diventato il livello Il 45 nel frattempo Mamma mia Adesso è passato il livello Se non sbaglio Si ma si Mostra Antenati Ah Adesso puoi anche vedere L'albero genealogico Dei tuoi dinosauri Vabbè Voi due Nel frattempo Che mi seguite Io tamo Un attimo Questa scimmia Molto gentile scimmia Come sempre Visto che sono saletto di livello Vediamo di aumentare Un po' il peso trasportabile E vediamo finalmente Di sbloccarci Un paio di cosette Sblocciamo Il sacco pelo E vediamo Se possiamo sbloccare Anche il letto No Ci manca un punto Vabbè A sto punto risparmiamo Per poi sbloccarci Il letto E nel frattempo Visto che ci serve carne Direi che Possiamo Uccidere Questo listrosauro Che per quanto ricordo È un conto Inutile Quindi se Diplodocus Non rompe i coglioni Magari Di Lofusauri Attenti A dove state attaccando Attenti A chi le attaccate Per fortuna C'è l'acqua Quindi è tuttiscio L'impatto Però Ce l'hanno ancora su Penso che potrebbe essere Problematica Sta cosa Pino Pino Attento Bellissimo Vedere come Gli sta mancando Atrocemente No Ti arriva la codata Non dovrebbe far danno Vediamo Eh infatti Non fa danno Ma non vorrei ucciderlo Perché C'è un dinosauro Erbivoro Così grande Qui nei paraggi Non mi dispiace Averlo Vabbè Magino Non Infierire Pino Neanche te Vabbè Semplicemente Allontaniamoci Perché Non voglio ucciderti Quindi Muovetevi Beh oddio Se me lo porto davanti a casa Non è male Così almeno Mi tira via Le rompiscato Le tre passeranno Quelli Che cosa sono Non li ho mai visti Ah ma sono così Prima che mi hanno rubato la carne Figli Della buona donna No che mi vogliono rubare la carne Di nuovo Non ci Sì ma Di Lofosauri carissimi State facendo l'effetto contrario Non dovevate far questo Ah L'ho stordito subito A parte quello che Ho stordito subito Questo Sta scappando E me due Di Lofosauri Sono andati a infastidire Di nuovo Tu cosa sei Sei carnivoro Non posso tamarti Ti dispiace Un secondo Diplodo Dove ho finito Gino Ecco la Gino Il personaggio sta Morendo leggermente Di fame Quindi Gino Venite con me Uccidete Una No Non posso uccidere Il dog Vabbè Il tiro a un pino Dai su Gino a pino Trompite il vostro Decidete voi Cosa fare Non mi interessa Questa scena L'ho già vista Ho tipo un deja vu Può essere Maledizione Il mio personaggio Muore di fame Quindi vediamo Di farlo mangiare Anche se Non è esattamente Nel luogo Nel momento Ma Vabbè Bellissimo Come ci prova Questo diplodocus Ma non gliela fa Vabbè Abbiamo un po' di carne Direi che Possiamo Iniziare A dar da mangiare Un po' A pino E se magari Mi ripara Anche Non può riparare La fionga Vabbè L'ho dato Da mangiare A pino Quindi devo dare Da mangiare No Anche l'ho dato Da mangiare Non mi ricordo Mi sono Compenetrato Tantissimo Con la testa Di uno dei due Non va bene Allora Tinta la carne E diplodocus Ha smesso Di rompere le scatole A sto punto Il dodo Lo uccido io Perché I miei Due dilopisauri Non mai essere sicuri No Ho dato Una bella Picconata In testa A pino Che tra l'altro Non si è fatto male Però va bene Che cosa Ho svegliato Fatemi dare un attimo Un'occhiata A come si chiama No Ti rompe le scatole Ah ma Quello Proprio Ti ruba Qualsiasi cosa D'alimentario Non gliene Frega cosa Vabbè Queste cose Le buttiamo Perché sono Dei doppioni Intanto Gino e Pino Sono A caccia E vabbè L'hanno ucciso Pegu qualcosa Dopo vado a vedere Che dinosaurio è Intanto Voi due Mi seguite E il mio personaggio Muore di nuovo Di fame Perfetto A sto punto Vediamo di tornare a casa E possiamo dire Che per questo episodio Può essere tutto Non abbiamo fatto molto Ma Diciamo che Non c'era molto Da fare E quindi Niente Direi che per questo episodio È decisamente tutto So che non abbiamo Affatto molto Abbiamo tamato Pino e Gino Abbiamo provato Tamare le scimmie Soglia su Mor Che è fra trucci Sofferenza Per culpa dei Velociraptor E quindi è stato Decisamente Un episodio Fallimentare Però Visto che non ho più tempo Direi che per oggi È decisamente tutto Quindi vi ringrazio Tantissimo Della visione E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Sperando che sia Un po' più produttivo Sperando che sia